Paura per il volo. Il trio in Messico durante il terremoto, Ginobler assicura il pubblico. Il trio il volo impegnato in un concerto a Città del Messico, proprio durante il terremoto in Messico. Paura per il trio il volo impegnato in un concerto a Città del Messico, nelle ore precedenti il terremoto che ha colpito la costa sud-occidentale del paese. A preoccuparsi dei tre ragazzi soprattutto i loro fan che seguendo il tour mondiale sapevano bene che Gianluca Ginobler, Pietro Barone e Ignazio Boschetto, foto, fossero impegnati con una data proprio in Messico. Appena appresa la notizia della terribile scossa in tanti hanno inviato messaggi e posta il volo, ai tre cantanti, preoccupati dell'accaduto. Il primo a rassicurare il pubblico è stato Gianluca Ginobler. I tre lirici stanno bene. Su Facebook Ginobler ha subito scritto. Grazie a tutti per i messaggi, stiamo bene nonostante la forte scossa che poco fa ha colpito il Messico. Con il volo tra le varie tappe del tour c'è anche il papà di Gianluca che ha aggiunto. Grande paura ma stiamo tutti bene. A Città del Messico non è successo nulla di grave. Con questo secondo posti i tanti fan del trio, si sono rilassati calando la tensione per l'allarme derivante dalle notizie sul terremoto. Abbiamo visto tutti la grave situazione nel paese centroamericano colpito dal terremoto con una scossa di magnitudo 8. 2 della scala Richter. L'epicentro sarebbe stato a largo della costa sud-occidentale, ma chiaramente avvertita anche a Città del Messico dopo si trovavano Gianluca, Ignazio e Pietro. 6 morti accertati ma c'è anche il pericolo tsunami che mantiene la popolazione in comprensibile stato di agitazione. Intanto, il volo prosegue il tour perché domani e domenica ci sono altre due date da rispettare. Il signor Ercole Ginobble in un altro post ha confermato che Città del Messico non ha subito non ha subito grandi danni ma gli attimi di terrore vissuti sono stati intensi. Salvo imprevisti dovuti al sisma i ragazzi del volo, sono quindi attesi a Monterey il 9 settembre e a Guadalajara domenica 10, poi a Santo Domingo il 13 settembre. Ma sappiamo anche ai Caraibi la situazione non è delle migliori a causa dell'uragano Irma. Gianluca Ginobble fidanzato con Martina? L'amore prende il volo tra coccole e baci. Ecco le foto da diva e donna. I tre ragazzi del volo non amano molto parlare della loro vita privata e non si mostrano spesso in compagnia delle loro fidanzate anche perché non è che abbiamo molto tempo da dedicare all'amore. A quanto pare però, il Latin lover del gruppo, Gianluca Ginobble ha finalmente trovati la ragazza giusta. La sua estate sarà da uomo impegnato. Ebbene sì, Gianluca Ginobble è fidanzato con la bella Martina. Non è una novità sembra che i due stiano insieme da qualche mese. E nelle ultime settimane i paparazzi hanno immortalato insieme Gianluca e la bella fidanzata impegnati nelle prime tintarelle estive. Sul numero di diva e donna in edicola questa settimana, potrete vedere un intero servizio dedicato a Gianluca e Martina, che hanno passato del tempo insieme al mare, tante coccole in spiaggia, bagno in piscina, bikini e ovviamente prima abbronzatura. Un po' di relax, fa sempre bene tra un impegno e l'altro. Martina è davvero una bellissima ragazza con un fisico impeccabile, e Gianluca non la perde di vista anche se si accorge che ci sono sempre i paparazzi in agguato. Si sa che le fan di Gianluca, Ignazio e Piero, vogliono sempre avere news sulla loro vita privata, oltre che sui loro impegni canori. Ecco le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. I due piccioncini non si perdono di vista. Lei scatta qualche foto, lui dispensa coccole tra baci e teneri abbracci. Dopo il relax in piscina si torna in hotel, ma anche lì non si è al sicuro dai paparazzi che immortalano altri momenti di intimità. E dopo le vacanze al mare per Gianluca, e il volo nuovi impegni in tutta Europa. In queste ore i ragazzi sono impegnati in Germania. Le foto con la fidanzata non fermano però le fan di Gianluca, che sui social continuano a dichiarare il loro amore con tantissimi complimenti e frasi d'amore. E siamo solo all'inizio dell'estate, tra i programmi TV di stasera 10 giugno 2017, con il cuore nel nome di Francesco. Il volo tributo ai tre tenori, Hitler, Bella, Pazza, Impossibile e Colazione da Tiffany su Rete. Stasera in TV sabato 10 giugno 2017, su Rai 1, va in onda con il cuore nel nome di Francesco. In diretta da Assisi, la gara di solidarietà dei frati con la partecipazione di tanti ospiti. Su Canale 5 oggi in prima serata il volo tributo ai tre tenori, su Rai 2 il film Bella, Pazza, Impossibile e in prima TV. Tra i programmi TV in onda stasera ha anche piedone lo sbirro con Bud Spencer, Anna Winter caccia al killer, colazione da Tiffany e Dragon Trainer su Italia 1. Di seguito le anticipazioni della Guida TV Zapping sui programmi in onda stasera. Programmi TV stasera 10 giugno 2017, Guida TV Zapping. Seguici. Seguici su. Antonella Clerici si riprende alla grande la prima serata. Ruba i giudici a Maria e spicca il volo. Da Sanremo le anticipazioni per la prima puntata di Standing Ovation in onda il 17 febbraio 2017 su Rai 1. Di blu vestita, Antonella Clerici ha fatto il suo ingresso sul palco dell'Ariston. Fino all'ultimo momento la sua presenza è stata in dubbio, ma alla fine la Clerici ha trovato il tempo per passare da Sanremo. Sono tantissimi gli impegni della Clerici, che ha dovuto lasciare la prova del cuoco, affidandola alla sua squadra, per un giorno in modo da essere a Sanremo per parlare del nuovo programma di Rai 1, che la vedrà protagonista in prima serata. Antonella Clerici infatti torna in prime time con Standing Ovation da venerdì 17 febbraio 2017. Alla faccia di tutte le superstizioni, Antonella è pronta al debutto e nella serata del festival, dà anche delle succose anticipazioni di quello che vedremo nella prima puntata del programma. Standing Ovation mescola diversi ingredienti, non è una gara, non è solo esibizione, non è solo piccoli talenti, e, varie cose messe insieme, ma la paura che i piccoli possano restare male in merito ai commenti dei giudici non ci sarà perché e non saranno soli sul palco di Standing Ovation ma in compagnia di loro parenti o comunque persone care. E questa volta la Clerici deve aver imposto il suo credo. O si fanno le cose per bene o non si fanno. Negli ultimi anni la conduttrice aveva dovuto arranciarsi nelle varie prime serate, con quello che Mamma Rai offriva ma a quanto pare, per il suo nuovo programma, non sarà così. E lo si capisce bene anche leggendo i nomi dei tre giurati che faranno parte della sua squadra. Abbiamo titolato, Antonella ruba i giudici a Maria, perché un po' è anche così. Nella giuria di Standing Ovation infatti ascolteremo i commenti di Neck, che come saprete ha fatto parte della scuola di amici, con il suo ruolo di direttore artistico nel serale. E poi ancora ci sarà anche, sorpresa dell'ultimo momento, Loredana Vertè che a questo punto, immaginiamo, non sarà tra i giudici della prossima edizione di Amici. Terzo giudice per il nuovo programma di Rai 1, Romina Power, un pezzo da 90 anche per l'affetto che il pubblico nutre per lei. Ma non finisce qui perché come annunciato da Antonella Clerici nella sua partecipazione a Sanremo, la prima puntata di Standing Ovation, vedrà protagonisti i ragazzi del volo. Piero, Ignazio e Gianluca saranno insieme a lei venerdì 17 febbraio 2017 su Rai 1. Si parte alla grandissima quindi, in bocca al lupo per questa nuova avventura.